ciao bellezze stasera diretta quasi a sorpresa per raccontarvi la mia esperienza con l'occhio che lacrima visto che dopo la stories che ho fatto mentre stavo rientrando da firenze per la mia toccata e fuga per andare a come dico io a sturare il canale lacrimale mi avete fatto un sacco di domande e mi avete chiesto cosa mi era successo se potevo raccontare la mia storia come avevo capito che il problema era dovuto al dottor lacrimale chiuso e quant'altro e quindi siccome ho risposto a vari a vari messaggi che mi sono arrivati in direct ho pensato che forse potesse essere utile raccontarvi la mia esperienza con una diretta appunto al volo così sono appena quasi praticamente appena tornata alla palestra non ho neppure ne ho fatto la doccia quindi mi prendete così come sono d'accordo allora vi racconto dunque un bel po di anni fa forse era appena un anno che avevo in iniziato avevo fondato il mio blog io divido la mia vita tra prima e dopo il blog più o meno vabbè comunque a un certo punto ovviamente avendo iniziato questa nuova attività col blog stavo moltissimo davanti al computer ad un certo punto questo un occhio l'occhio destro comincia a lacrimare in maniera veramente abbondante cioè ma una cosa incredibile cioè nel senso che non riuscivo proprio né a leggere né a guidare dovevo asciugarmi continuamente l'occhio se avevo le mani impegnate queste lacrime scendevano sul viso e sul tavolo oppure su vestiti insomma una cosa propusissima ma ho pensato vabbè non è una cosa così era abbastanza fastidioso invalidante però ho detto mi passerà quindi come si come siamo insomma solite fare in queste cose ho lasciato correre anche perché lo stesso anno più o meno nello stesso periodo mi avevano trovato un cintre al collo dell'utero quindi una cosa una lesione grave al collo dell'utero quindi mi dovevo preoccupare più che altro di quello mi sono dovuto operare per cui c'erano troppe cose avevo avrei avuto troppe cose da fare troppi medici da visitare troppe questioni in ballo per cui ho lasciato un po perdere nell'attesa che questa cosa migliorasse ed effettivamente siccome era primavera arrivata l'estate sono migliorata quindi vabbè si vede era un momento così pochino irritazione all'occhio mi sarà successo ho pensato a un'allergia qualcosa del genere rito è arrivata di nuovo all'inverno e poi vi spiegherò perché l'occhio ha cominciato di nuovo a lacrimare a quel punto ha cominciato un po a girare fra i specialisti e tutti continuavano a dirmi eh c'è l'occhio secco c'è l'occhio secco quindi avrò avrò girato almeno ma cinque sei medici cinque sei oculisti uno addirittura mi ha detto che stavo diventando presbite che io ho detto ma io veramente sono mio da vicino ci vedo benissimo e mi aveva addirittura eh eh prescritto gli occhiali pensate voi allora ho speso una marea di 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 quattrini tra medici e otto colliri ma quest'occhio continuava a lacrimare a un certo punto eh decido di chiamare questa mia amica che è un oculista che conosco benissimo e la quale mi dice guarda appena vieni qua a Pisa è di Pisa una mia amica storica mi dice ti ti visito mi visita e mi dice guarda sinceramente non vedo niente di strano eh mi sembra tutto opposto e anche l'occhio sì è secco ma non è così secco da giustificare questa lacrimazione di cui tu mi stai raccontando e frattempo era passato un altro anno eravamo arrivati all'estate successiva ed estate quest'occhio non mi lacrimava tanto ma perché perché col caldo le lacrime evaporano e quindi questa lacrimazione io la sentivo meno e a un certo punto lei mi dice eh guarda se è una cosa così che ti dura da così tanto tempo ed è così fastidiosa io andrei a fare una visita dal professor Strivella che è il primario a Lucca e che tra l'altro tra l'altro io non ci avevo proprio nemmeno pensato è un carissimo amico del mio marito è un più più grande di lui ma hanno insomma hanno passato mezza infanzia insieme andavano a giocare a calcio insieme lo chiamo e mi dice vieni che ti visito subito allora veramente una cosa incredibile l'esame per verificare se il dotto lacrimale è chiuso è di una banalità assurda cioè che addirittura lo ognuno se lo potrebbe fare per proprio conto cioè mettono un liquido giallo colorato comunque in quel caso era giallo nell'occhio se il canale lacrimale è chiuso il questo il liquido perché cosa succede il canale lacrimale è collegato al naso quindi le lacrime che noi produciamo vanno a finire nel nostro naso se questo liquido giallo rimaneva nell'occhio e non scivolava nel naso ovviamente voleva dire che il canale lacrimale era chiuso quindi si sono venuta a lucca si e quindi mi ha messo un tampone bianco nel naso dopo dieci minuti che aveva inserito questo liquido dopo aver messo questo liquido giallo mi ha messo dopo dieci minuti un tampone nel naso il tampone è uscito bianco e quindi voleva dire questo liquido giallo queste la queste questo canalino queste queste vie lacrimali non drenavano c'era una stenosi allora lui mi ha fatto un lavaggio questo lavaggio si fa con una canulina come se fosse una canula di quelle che si usano per fare i filler si entra in questo buchino perché noi qui se voi guardate bene abbiamo un buchino si entra in questo buchino si lava il canale lacrimale non è doloroso è solo fastidioso perché ovviamente tutto quello che concerne l'occhio è fastidioso ma non è doloroso e cercano attraverso questo lavaggio di ricanalizzare ripulire il dotto lacrimale chiuso che questo se mentre il lavaggio viene effettuato il lavaggio il liquido entra nel naso si sente scorrere nel naso vuol dire che il lavaggio ha avuto successo ovviamente però si potrebbe anche richiudere se c'è una stenosi quindi effettivamente io questo liquido nel naso l'avevo sentito però poi lui mi aveva detto guarda richiamami fra una ventina di giorni vediamo come vanno le cose perché altrimenti ci sono due soluzioni possiamo tentare uno stand cioè mettiamo uno stand che porta in sala operatoria ti metto uno stand che sottile come un capello dentro il canale lacrimale per cercare di ricanalizzare lo devi tenere in sede tre mesi oppure se no bisogna passare direttamente all'intervento chirurgico che io peraltro non volevo fare lo chiamo dopo 20 giorni questo occhio continuava a mare al che mi dice vabbè fissiamo un appuntamento e ti metti questo stand che dovrai tenere appunto in sede tre mesi facciamolo d'estate in maniera tale perché questo stand ti chiuderà ancora di più il canale lacrimale perché è vero che è sottile come un capello ma mentre prima nel canale lacrimale qualche lacrima ci poteva andare ora con questo stand è occluso completamente quindi dice lo facciamo d'estate così tanto d'estate le lacrime evaporano e questo fastidio è inferiore tengo questo stand in sede per circa tre mesi dopo di te me lo toglie gli ambulatorialmente e mi dice guarda entro 20 giorni dovresti cominciare se l'intervento è stato efficace dovresti ricominciare a stare bene ma io dopo 20 giorni passano i giorni un mese due mesi questo beneficio non l'avevo non l'avevo non non cominciamo neppure ma minimamente a sentirlo al che lo mi dice guarda a questo punto non resta che l'intervento chirurgico ora in questi casi ci possono e lo so devi essere fortunato a trovare un bravo dottore infatti è vero perché noi si parla tanto della menopausa ma poi alla fine cioè è tutto così perché trovare un bravo medico che si occupa proprio di quello e che capisce quale problema hai è la cosa più importante perché se non si capisce la causa non si può trovare nemmeno la cura no vabbè comunque mi dice guarda ci sono due soluzioni due tipi di intervento chirurgico dall'esterno cioè cosa succede che è un intervento che fa l'opulista cioè praticamente vengono fatti due tagliettini piccolissimi qui all'interno del naso nel PR truff e si ricanalizza il canale lacrimale che poi va a finire nel naso io queste cicatrici però esterne non le volevo quindi lui mi disse guarda l'unica soluzione è fatti operare da il un otorino perché questi interventi qui dalla fatti dentro il naso li fa l'otorino e mi dà questo nominativo di questo medico a Brescia dice guarda secondo me il più bravo in Italia a fare questi trattamenti questi tipi di intervento è lui vado a Brescia e faccio questa visita considerate che nel frattempo erano passati due tre mesi dal momento in cui il questo questo medico mi aveva tolto questo stent dopo aver fatto la visita comincio a stare meglio gradualmente non lacrimo più quindi figuriamoci se io mi faccio l'intervento ma nemmeno per idea e quindi la cosa va a finire così cioè niente comincio a stare meglio sì ogni tanto quest'occhio mi lacrimava però diciamo che era una cosa assolutamente sopportabile per cui decido di non fare niente ogni tanto mi lacrimava comunque usavo le lacrime artificiali perché oltre a avere questa stenosi del canale lacrimale ho anche l'occhio secco che devo dire la verità ultima nell'ultimo periodo mi dava più fastidio l'occhio secco del del di questa eccessiva lacrimazione che poi in medichesi si chiama epifora e che solitamente perché vi è perché si verifica questo fatto sapete perché l'età l'età e poi noi donne è una siamo molto fortunate perché è una problematica quasi esclusivamente femminile non quasi esclusivamente esclusivamente femminile lui mi ha detto questo il medico che mi ha messo questo stand questo professor trivella che ha un tesoro un amore di dottore mi ha detto che lui nella sua vita lui c'ha già 70 anni ha sempre operato le vie lacrimali ha operato un unico uomo perché noi donne nasciamo proprio con dei canali lacrimali molto più piccoli rispetto all'uomo e quindi è molto più facile che si occludano e che si restringano con l'età e poi l'occhio secco ovviamente non agevola la situazione e non facilita la situazione vabbè comunque comincio a stare meglio e quindi decido di non fare niente continuo con queste lacrime artificiali insomma ne avrò cambiate 500 mila e appunto nell'ultimo periodo mi dava molto fastidio l'occhio secco spesso poi stando tanto davanti al computer spesso arrivavo la sera con gli occhi rossi che mi bruciavano da morire quindi queste lacrime artificiali me le tengo dappertutto in tutte le borse ho le lacrime artificiali vabbè comunque a parte questo fatto quest'estate ho un episodio dall'altro occhio una lacrimazione ma imponentissima e improvvisa e quest'occhio che si gonfia quindi ero in toscana perché ero al mare lo chiamo subito chiamo subito questo amico questo professor trevella e lui mi dice vieni subito al look che ti vedo e mi visita e mi dice guarda qui siamo aggiunti al dunque perché hai tutte e due gli occhi con le vie lacrimali chiuse tutti i dotti sono chiusi quindi io provo a ricanalizzarteli con un lavaggio però vediamo quanto dura nel frattempo vai di nuovo dal chirurgo io andrei dal chirurgo e devi prendere l'appuntamento ma io devo dire la verità siccome lui mi aveva fatto un lavoro fatto veramente bene e quindi stavo bene non avevo con questo lavaggio non avevo più lacrimato e quindi non ci sono nemmeno andata a questo chirurgo e ho lasciato perdere fino a che altro giorno ho avuto un raffreddore importante quindi il naso chiuso le vie lacrimali non sgorgavano cioè le lacrime non sgorgavano non riuscivano ad andare per quel poco che vanno all'interno del naso e quindi un disastro cominciato a lacrimare tantissimo da tutti e due gli occhi poi il destro che è quello dove ha messo lo stent devo dire che ha recuperato terminato il raffreddore ha recuperato invece l'occhio sinistro che era quello che è quello in cui non ho messo lo stente in cui non posso neppure mettere lo stente perché altrimenti avrei tentato quello invece che operarmi perché lui mi ha detto che la stenosi è messa in un modo totale in un punto tale che lo stenta non avrebbe alcun successo e continuavo talmente a lacrimare ma con un fastidio tale che a un certo punto l'ho chiamato e gli ho detto guarda io sono risposta a venire subito a farmi fare un lavaggio nell'attesa di avere poi l'appuntamento perché a questo punto l'intervento devo farli quindi lui mi ha fatto andare a Firenze il giorno successivo e quando mi ha visitato mi ha detto guarda non solo ormai ti devi operare te l'avevo già detto quest'estate ma tra l'altro ha trovato dentro il sacco lacrimale un po' di siero cioè che cosa vuol dire che si sta cominciando a avere un'infezione del siero perché cosa succede che queste lacrime non sgorgando all'interno del naso rimangono in superficie e si riempiono di batteri e si infettano e quindi nel momento in cui il sacco lacrimale si infetta cioè queste lacrime diventano infette si può gonfiare questa parte qui del naso l'acrale del naso quindi si crea ovviamente un'infezione importante e a quel punto non posso più non potrei più cioè dovrei operarmi d'urgenza e non potrei neppure più fare l'intervento dal naso ma sarei costretta a fare l'intervento esterno quindi lui mi ha detto guarda io fossi in te cioè non solo mi opererei ma ti dovrei operare anche abbastanza rapidamente e quindi ho già preso l'appuntamento col chirurgo che mi vede i primi di marzo e che a questo punto fisserò l'intervento questo vi ho raccontato tutta la mia storia per farvi capire che se avete una lacrimazione abbondante potrebbe essere una stenosi del canale lacrimale è vero che anche l'occhio secco da stenosi oppure per esempio delle patologie che c'è l'occhio secco porta a queste problematiche di lacrimazione però se sono delle se vi rendete conto che con le lacrime artificiali non risolvete niente come non risolvevo io fatevi fare una visita e sappiate che veramente la diagnosi è banale io quando lui mi ha messo questo liquido nell'occhio giallo colorato e ho visto la banalità della diagnosi ho detto vabbè nemmeno ci fossero voluti dei macchinari particolari no c'è veramente sono rimasta colpita dal fatto che nessuno dei medici a cui mi ero rivolta aveva mai pensato che potessi avere una stenosi del canale lacrimale guardate che roba non è che stiamo parlando che stiamo siamo nel grande aburundi in mezzo alla savana siamo amici c'è io vivo tra monza e milano quindi eppure nessuno dei medici oculisti da cui mi sono presentata ha pensato a questo io lo trovo veramente assurdo grazie per aver condivido questa situazione no vi informo perché se dovesse capitarvi anche a voi sapete come gestire la cosa per cui purtroppo è più frequente tra l'altro di quello che pensassi perché pensate che quando sono andata la prima volta da questo medico di brescia che poi sarà quello che mi opererà lui mi aveva richiesto una dacriocistografia cioè cos'è un esame siccome lui non è oculista ma è autorino lui deve verificare dove è questa stenosi cioè come è messo questo canale lacrimale quindi dove intervenire per cui io ho cominciato a cercare qualcuno che su milano eh facesse questo esame andrà su milano la dacriocistografia non la fa nessuno cioè che anche questo no io ho pensato probabilmente è un evento talmente raro che è un cioè probabilmente sono una delle poche che ha questa problematica e quindi l'esame non lo fanno per questo motivo perché avrebbero pochissimi pazienti quindi sarei dovuta andare a farlo a brescia questo esame poi ho cominciato a stare meglio quindi questa dacriocistografia in realtà io non l'ho mai fatta tra l'altro il mio oculista mi ha fatto una diagnosi perfetta di dov'è la stenosi e mi ha detto che probabilmente non avrò bisogno neppure della dacriocistografia però per farvi capire che invece invece parlando con voi mi sono resa conto che non è così rara come come problematica e come patologia cioè siamo in tante ad avere questa epifora eppure l'altro giorno quando sono andata a Firenze ora lui è un mio amico mi ha fatto andare subito ma se io fossi andata attraverso addirittura in Intramenia in Intramenia avrei avuto l'appuntamento a metà maggio sia a Lucca che a Firenze che a si sa perché lui ha persone che arrivano da tutta Italia mi ha detto perché sono pochissime le persone che si occupano in maniera gli oculisti che si occupano in maniera approfondita di vie lacrimali prendetevi conto lui ha più di 70 anni mi ha detto io devo continuare a lavorare perché a me lasciare i pazienti mi dispiace perché poi questi dove vanno c'è gente che arriva dalla Sardegna quindi non lo so perché di vie lacrimali se ne occupa nessuno io sinceramente non lo so e questo intervento avrei potuto riferto farlo anche da lui dall'oculista ma io non voglio la cicatrice esterna quando lui mi ha detto beh ma tanto non si vede io gli ho detto vabbè allora senti se non si vede operami e lui mi ha detto no te non ti opero quindi vuol dire che nella maggior parte dei casi non si vede però qualche volta qualche volta si potrebbe vedere quindi lui una come me che è molto attenta all'aspetto dell'estetica preferisce non operarmi perché dice magari una volta su è proprio il caso in cui la cicatrice non viene benissimo e quindi niente occhio secco mi tormento da quando sono entrata in meno pausa e vabbè quello è abbastanza normale perché seccano tutte le mucose e quindi secca anche l'occhio però se è solo occhio secco io per esempio ti consiglio di usare un collirio che si chiama della boschelomb che si chiama ecco ora se comincio il brain fog da meno pausa non me lo ricordo si chiama si chiama insomma comunque mi sono mi trovo molto bene però appunto bisogna capire se è solo occhio secco oppure se c'è anche questa stenosi del canale latimale se a questo autunno service all'ospedale di parma fanno la dacriocistografia ah grazie mille però capisci che io sto a milano cioè a milano in tutta milano io ho ho c'è l'oftalmico qua non lo fanno neppure l'oftalmico quindi sarei dovuta andare a breccia a fare la dacriocistografia vabbè vista vision su milano un centro eccellente grazie grazie mille però bisogna capire se se sono esperti in via lacrimali capito il problema è questo l'occhio secco va bene ma l'uso di cosmetici per il contorno occhio potrebbe essere ritanti col tempo se c'è già un problema irritativo per esempio io mi rendo conto che quando l'occhio mi lacrima molto non riesco a truccarmi cioè se per esempio utilizzo il lombretto no e la polvere un po di polvere mi va nell'occhio già l'occhio magari secco già l'occhio ha irritato già lacrimo lacrimo ancora di più però di base no ecco se non hai problemi no non è quello che ti provoca la stenosi del canale lacrimale la stenosi del canale lacrimale è dovuta a purtroppo altri altri problemi per esempio è molto comune vi ho detto che è molto comune nelle donne oppure nei bambini in età pediatrica cioè nascono col canale lacrimale ostruito infatti li operano subito e provano provano con dei massaggi inizialmente ma se il problema si permane li operano chi ti ha visitato a luca a luca mi ha visitato il professor trivella si chiama fausto trivella è un amore michela sembra la mia storia da quando sono in menopausa sto soprendo tantissimo con l'occhio mi ho visto almeno se oculisti nessuno mi ha potuto aiutare puoi ripetere chi è il medico che ti ha visitato allora mi ha visitato si chiama fausto trivella è un esperto di vie lacrimali ripeto il mio problema non è solo l'occhio secco è anche l'occhio secco perché io poi soffro di una patologia autoimmune che sicuramente non aiuta per la questione della sicchezza oculare ma il problema è la stenosi del canale lacrimale capito quindi si sommano le due cose ho la stenosi del canale lacrimale e l'occhio secco cioè no perché una sola capito non era sufficiente quindi io dovevo avere per forza qualcosa di un po più complicato lo so che ci vorrebbe una ranking list anche per i medici infatti ora domani spero non lo voglio dire perché che esca il nostro sito menopausbust.it con una mappatura di medici sparsi in tutta italia che afferiscono al benessere della donna in menopausa diciamo dai 40 anni in su quindi ci sarà tricologi medico estetico ci sarà il 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 ovviamente il ginecologo l'endocrinologo il nutrizionista psicosessuologo che si occupa di osteoporosi quindi il reumatologo insomma tantissime figure professionali un po come abbiamo costruito la nostra il nostro comitato scientifico e lo stesso questa mappatura comprenderà tanti medici che afferiscono al benessere della donna in menopausa e volevo metterci anche appunto fausto trivella per quanto riguarda l'opulistica quindi io l'occhio secco l'ho risolto avevo già letto l'occhio secco è una grande rottura di scatole sinceramente proprio una grande rottura di scatole tra i sintomi dell'occhio ti fiscano le vecchie no quello per fortuna no scusate mi sono connessa solo ora sì certo se venite mercoledì a milano mi vedete mercoledì a milano dalle 19 in poi siamo in viacadore 33 e parleremo di problemi uroginecologici in menopausa quindi tutto quello che noi donne non diciamo uroginecologo sarebbe utile certo c'è tutto il team del San Raffaele come uroginecologia ci sono ci sono ci sono anche gli uroginecologici c'è tutto la sindrome di Sjogren non soffro di Sjogren no ho un'altra forma autoimmune che si chiama spondilita anchilosante che però sicuramente non agevola il fatto che di sicuro l'occhio secco mi è peggiorata ancora di più sia per la menopausa ma anche perché soffro già di una formata immuno allora bellezze quindi vi ho raccontato la mia esperienza in questo caso e perché volevo farvi capire che a volte fare diagnosi corretta è molto importante e ripeto in questo caso qui tra l'altro è veramente banale fare una diagnosi di questo tipo per capire se c'è una chiusura del canale lacrimale sinceramente cioè non capisco come degli oculisti non sia nessuno di quelli a cui sono andata non abbia pensato a una roba del genere a infilarmi un tampone nel naso e a mettermi nell'occhio un liquido colorato non lo so io vorrei andare da ognuno di questi a dirglielo a chiederglielo sinceramente vabbè comunque vi ringrazio per anche oggi stasera per avermi seguito spero di esservi stata utile e vi lascio perché tra un po' ritornerò in diretta no scherzo sì è vero per una prova con la dottoressa Ilaria Zollino perché la mappatura sarà sul sito sì sì è una mappatura sarà sul sito e spero che si arricchirà poi nel tempo perché per ora abbiamo messo solo alcuni dei medici che hanno aderito alla nostra iniziativa considerate che tutti i medici che hanno aderito all'iniziativa a meno che non siano degli ospedalieri si sono resi disponibili a fornire delle agevolazioni alle donne che si associeranno quindi pagando una quota associativa di 29 euro potrete accedere a questa mappa e godere delle agevolazioni che questi medici forniscono per cui sono sparsi un po' in tutta Italia e spero che si arricchirà sempre di più di medici non presi a caso è questo vorrei assolutamente sottolinearlo come non sono mai presi a caso quelli che intervengono nelle dirette e come non sono mai presi a caso quelli con cui facciamo i contest come perché qualcuno come non sono mai presi a caso quelli con cui io faccio i trattamenti e scrivo gli articoli e su cui poi scrivo gli articoli per cui sono selezionati da me e altri medici che di cui mi fido ciecamente o da pazienti che si sono rivolte a loro e di cui mi fido ciecamente per cui se poi questo devo dirlo il rapporto col medico è sempre basato sulla relazione quindi è probabile perché ci sta che è capitato anche a me di medici di cui mi hanno detto persone che conoscevo molto bene da cui sono stata indirizzata da persone che conoscevo molto bene con i quali purtroppo non mi sono trovata bene perché ripeto il rapporto medico paziente è un rapporto di relazione e quindi è probabilissimo che uno non riesca a relazionarsi con quel determinato medico o perché gli non gli sta simpatico perché c'è qualcosa che non va insomma sono possono essere tanti no e le cose però io vi garantisco che in tutta coscienza io come li seleziono sono i medici da cui andrei io quindi quelli da cui non andrei mai non ve li propongo non ve li proporrei mai ma per vari motivi non solo perché magari non sono bravi ma perché magari non mi piacciono come perché non mi piace come si rapportano con pazienti questo potrebbe anche uno dei motivi che secondo me è importante ci sono dei medici che secondo me sono molto bravi ma proprio dal punto di vista come professionalità hanno una grande professionalità ma non mi piace come si rapportano con come si relazionano proprio con i pazienti non sono empatici non sono aperti non sono sorridenti non sono accoglienti invece noi donne soprattutto abbiamo bisogno di essere accolte e quindi ripeto io li seleziono in questo modo dove non andrei io non mando neppure voi per cui tutti quelli che vedrete e incontrerete sul mio cammino o sul o sulla mappa o nei miei spazi sono tutti medici che ho selezionato in prima persona o vi ripeto perché sono stati indicati da altri e vi garantisco che a moltissimi ma veramente a moltissimi ho detto di no non ho accettato delle dirette perché non non ero convinta e questo è il mio il mio modo di lavorare tra virgolette insomma per cui potete stare tranquille sulla mia buona fede poi ripeto ci può essere anche il caso in cui uno non si sia trovato bene assolutamente e ci sta benissimo però io io quando vado a letto sono tranquilla di avervi consigliato il medico che secondo me è quello corretto è quello da cui sarei andata e con questo vi saluto e chiamo subito la dottorista elaria zullino con la quale ci vediamo per fare una prova subito dopo appena ho chiuso questa diretta e con la quale faremo una diretta domani sera alle 21 e 30 e parleremo di trattamenti full face e con limit abili quindi trattamenti di medicina estetica allora è vedi mia figlia lo stesso problema quindi vi saluto ci vediamo domani sera alle 21 e 30 con la dottoressa il area zullino grazie sempre e ripeto spero di esservi stata d'aiuto ciao ciao a tutte ciao